Cavani non segna più ormai da cinque partite di campionato, ma come mai il Matador non riesce più a trovare il gol? Andiamo a chiedere ai tifosi azzurri. Probabilmente sarà un po' stanco o forse il suo aperito no. La stanchezza oppure la voglia forse di cambiare area? Cavani è il finalizzatore, se la squadra non gira Cavani non può sempre cacciare il coniglio dal cilindro e risolvere le partite. Penso che qualsiasi punta a livello mondiale, tranne qualche eccezione, Messi e qualcuno può avere un momento no. Manca il pocio e purtroppo ne stiamo subendo. Stress, anche che gioca da solo contro tutti gli altri avversari che avanti.